Buongiorno a tutti, è assolutamente ovvio che dopo la morte improvvisa di Giovanni Bianchi il gruppo dirigente del Cespi determinasse un appuntamento in cui evidentemente cercare di riprendere quelli che sono gli assi fondanti del suo pensiero, naturalmente mettendone in evidenza solo alcuni aspetti perché come avete visto dalla bibliografia che spero abbiate ritirato e che noi abbiamo predisposto Giovanni Bianchi spaziava dalla poesia alla narrativa e alla saggistica e quindi tenendo conto anche del fatto che quella bibliografia è ancora incompleta perché l'obiettivo nostro insieme ad un altro gruppo che so che sta lavorando in questa direzione è quello di riuscire a elaborare dal punto di vista generale il complesso, raccogliere ed elaborare il complesso degli iscritti di Giovanni Bianchi. Quindi questo convegno all'università proprio perché io ritengo spetti ad una grande figura intellettuale il luogo principe in cui si elabora la cultura. oltretutto, vabbè, l'obiettivo non è stato accentrato, mi diceva Gavinelli che lunedì mattina è una giornata un po' particolare per gli studenti perché sono tutti legati allo studio della lingua inglese domina all'inglese al mattino. Però è evidente che come al solito noi registreremo l'evento lo metteremo sul sito, anzi l'invito è di andare a visitare il nostro sito, troverete diciamo molto materiale quasi tutti gli eventi dal 2012-13 in poi e da altri iscritti. Metteremo man mano all'interno del sito anche alcuni iscritti di Giovanni Bianchi e quindi l'invito è questo, per chi non sarà presente ci sarà l'occasione di andare a vedere quali sono stati gli atti di questo convegno. Io presento i relatori a questo tavolo, alla mia destra c'è l'assessora che ha voluto essere presente la ringraziamo, Alessandra Magro, alla mia sinistra c'è Dino Gavinelli, docente di geografia presso questa università poi Castagnetti, l'onorevole Castagnetti, Antonio Pizzinato alla destra e Salvatore Lattoli non c'è una sedia? Dopo, dopo, dopo. E' il professor Salvatore Lattoli. Dunque il titolo che abbiamo scelto Etica e Politica è sempre stato al centro della riflessione di Bianchi, anzi possiamo dire che è il criterio che ha uniformato la sua attività e la questione è di grande attualità, proprio perché uno dei valori costitutivi della società attuale è invece all'opposto l'individualismo, l'egoismo, il pensare a se stessi e quindi negando di fatto ogni principio etico nell'agire politico. E' il tema ricorrente, cito perché volesse vedere qual è il retroterro dal punto di vista storico la questione della riforma morale ed intellettuale. E quindi se è vero che questi due corni della riflessione etica e politica attraversano il pensiero di Bianchi, due sono i testi su cui egli si è fermato in particolare. Uno del 1993, il titolo è Etica e Politica, siamo negli anni di Tangentopoli e non a caso Giovanni riflette sugli aspetti di degenerazione della politica che hanno caratterizzato la fase precedente e un altro del 2008, Etica e Politica nella globalizzazione. E' un aggiornamento del testo del 1993, naturalmente andando ad analizzare gli effetti che il processo di globalizzazione determina nell'agire politico. Su questo tema poi so che interverrà il professor Natoli e quindi io non mi soffermo. Io intendo soffermarmi invece su altri due testi recenti che hanno, come i due precedenti di fatto, elementi di attualità. Il primo è Politica o Antipolitica, tra passione e qualunquismo. Il libro è del 2013 ed è scritto all'indomani delle elezioni. All'indomani di quelle elezioni che di fatto possiamo dire, anche se il PD rimane il primo partito, determina l'emersione, il successo dei Cinque Stelle. Scrive Bianchi, e in questa frase è sintetizzato il contenuto stesso del libro. Politica e Antipolitica si contendono al medesimo spazio. Il mantra corrente non è più che la politica sia una cosa sporca, e quindi si riferisce evidentemente alle riflessioni che ha fatto in precedenza. Ma è una cosa inutile. E la sua inutilità percepita che impedisce di difendere il primato della politica contro l'antipolitica in nome di un Parlamento ritenuto finto. Una precisazione, una riflessione personale. Io sono assolutamente convinto che l'antipolitica è essa stessa una scelta politica. Ed è una scelta politica alimentata da parte delle classi dominanti. Se vogliamo fare un riferimento dal punto di vista economico, quelli che si identificano con la fase finanziaria del capitale. Ed è una scelta politica che viene diffusa ideologicamente da mass media, giornali, eccetera. Faccio un nome per tutti. Scalfari di recente ha teorizzato che è necessario tornare all'elite e quindi ad una riduzione della democrazia, cosa che oltretutto si sta già realizzando di fatto, perché basta vedere quanta gente va a votare. Ormai possiamo dire che siamo ritornati ai primi del Novecento, quando c'era il censo per avere la possibilità di votare. Ai primi del Novecento e i teorici di riferimento erano Mosca e Pareto, che naturalmente erano per non l'allargamento della democrazia, ma la restrizione ai centri che avessero la possibilità culturale e il diritto di votare. Scrive Bianchi a questo proposito, e anche qui prevegenza, la democrazia è sì fatta che hai bisogno dell'altro per migliorare te stesso, e viceversa. E questo è l'elemento di fondo che caratterizza il fare democrazia all'interno di un Paese e che caratterizza il rapporto pieno della democrazia, che, come all'occhio di tutti, si sta man mano riducendo e restringendo nei suoi spazi. L'altro libro su cui mi soffermo, io naturalmente cercherò di essere il più sintetico possibile per dar spazio agli altri relatori, è Dossetti rimosso, del 2016. E all'interno, naturalmente, Dossetti è stato un punto di riferimento essenziale nel percorso culturale e politico di Giovanni, e il titolo determina, secondo me, il significato del libro. Vi leggo alcune frasi che ritengo essere essenziali. Essendo Dossetti la mente più ferbida e appassionata della forma partito. Giovanni, naturalmente, ha svolto un ruolo di primo piano, sia all'interno del Partito Popolare prima e poi del PD. E naturalmente, negli incontri che avevamo periodicamente, la questione del partito era sempre oggetto delle nostre riflessioni. Scrive ancora Bianchi. Dossetti distingue la passione per la politica dalla sete di potere. Non è casuale che ogni suo intervento prenda le mosse da un'attente, vasta ricognizione della situazione politica. Ed è naturalmente una critica a chi si sdraia, diciamo, sul contingente. E infine, anche questa frase emblematica, nella stagione che vede l'apoteosi pubblicitaria della politica, nessuno più di Dossetti prende ogni volta le distanze dal dilettantismo. Noi siamo oltretutto a un'alteriore degenerazione dell'apoteosi pubblicitaria. Ormai si comunica attraverso, come avete visto, i tweet. Mi sembra che di recente, bontaloro, si siano aumentati i caratteri da 180 a 280. Ma è evidente che all'interno di queste poche parole la riflessione non può che avere nessun concetto alle sue spalle. La forma partito ha assunto proprio in questa fase storica, e sono le discussioni che facevamo spesso con Giovanni, la cosiddetta forma di partito leggero, un partito che si adagia assolutamente solo sulle questioni elettorali, che non ha più un'identità politico-culturale ben precisa, e questo è un elemento di fondo su cui ci si sofferma con Giovanni spesso, perché la questione di fondo su cui si ragionava era proprio questa, la carenza in assoluto di una riflessione che avesse come cardine dell'analisi della realtà gli aspetti politico-culturali. La politica tutta schierata sugli esiti elettorali, con poche prospettive e poca strategia dal punto di vista generale. L'altro aspetto, sempre nel libro di Dossetti, e anche questo è un elemento essenziale che si lega direttamente alle considerazioni che faceva in precedenza, Bianchi scrive di politica senza fondamenti. È proprio un brano del libro, ed è di fatto la critica a quello che negli anni recenti è stato definito come pensiero postmoderno, con tutto ciò di correlato che ha alle sue spalle, fine della storia, post-industriale, fine delle grandi narrazioni, il termine narrazione è diventato di uso comune, e quindi senza nessun fondamento di analisi dentro i processi storici che ne veda soprattutto gli elementi di contraddizione, di avanzamento, di retrazione e via discorrente. E' quello che qualcuno ha scritto, il senno del posto. L'elemento di fondo, per chi si lega alla superficie, è mettere davanti a un concetto storico, ad un aspetto del processo storico opposto o neo, così ha finito di definirlo storicamente. Oltretutto, una riflessione di carattere generale, post-industriale che vuol dire? Che non si produce più acciaio, cemento e via discorrente. Che tutti quelli che hanno in mano lo smartphone, c'è solo il cosiddetto software, l'hard non esiste. Sull'hard basterebbe dire a quelli della Foxon in Cina che cosa significa. Ecco, questi alcuni brani, secondo me, essenziali, di questi due libri recenti, questioni che oltretutto riguardano la scelta precisa che Bianchi fa nella direzione dell'impegno politico-culturale e quindi di un agire politico che ha una concezione della politica alta, una politica non legata al contingente, ma una politica che ha al suo interno elementi di progettualità, che definisce strategie, è una politica soprattutto che curi dal punto di vista generale, di cui l'impegno preciso di Giovanni sia nel circolo di Dossetti che nel Cespi, l'elevamento delle giovani generazioni. e questo è l'obiettivo che sia il circolo di Dossetti che il Cespi si è sempre posto e questa è la scelta che facciamo, di andare spesso nelle scuole, di andare all'università, ci ritorniamo per singolare coincidenza dopo un anno, qua, nel novembre dello scorso anno, abbiamo fatto un convegno sulle questioni dei migranti ed è l'indirizzo essenziale che occorre determinare se vogliamo tenere fede all'impegno politico-culturale che nell'arco della sua vita Giovanni Bianchi ha praticato e seguito. Per concludere possiamo dire che la fortuna tra virgolette di un grande intellettuale deve risiedere assolutamente nella capacità di chi rimane nel perpetuare il suo pensiero e questo è un impegno che il Cespi si prende, so che mi è stato detto che c'è già un altro gruppo di giovani che lavora intorno alla possibile creazione di una scuola di formazione politica intitolata Giovanni, questo però li siamo ancora tutti in etinere, ma questo è l'impegno che dobbiamo prenderci per dare prospettiva ad un grande pensiero incarnato in un uomo di grande stature intellettuali. Ecco, io mi fermo qua e passo la parola all'assessore. Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio anzitutto il Cespi per l'invito e tutti gli altri organizzatori. Per me è un piacere e un onore essere qui con voi questa mattina. Vi porto il saluto del nostro sindaco Roberto Di Stefano e di tutta l'amministrazione comunale. Giovanni Bianchi è stato un uomo attivo a 360 gradi, un uomo poliedrico, direi, in quanto il suo impegno ha spaziato veramente in tutti i settori, dall'impegno politico all'impegno sociale, con le acri al suo ruolo nel Cespi, i suoi numerosi ruoli politici, prima come consigliere comunale, poi come segretario di partito, fino ad arrivare alla sua esperienza alla Camera dei Deputati. Un uomo che ha partecipato attivamente alla propria comunità e proprio per questo mi sarebbe piaciuto questa mattina avere un po' più di ragazzi tra il pubblico, perché credo che questo sia l'aspetto fondamentale. La sua e la vostra generazione sono generazioni abituate a partecipare attivamente, a lottare per quello che la mia generazione ha invece oggi un po' come scontato e che è il frutto però della lotta di qualcun altro. Quindi, mentre la mia generazione ha un po' perso questa partecipazione attiva alla propria comunità, nella vostra, è un po' nel vostro DNA. Io penso che questo sia l'insegnamento che dobbiamo trarre noi giovani da persone come Giovanni Bianchi a prescindere dall'appartenenza politica o dagli ideali perché poi è chiaro che ciascuno di noi crede in ciò che ritiene più opportuno l'importante è rimanere coerenti con quello che si crede, avere dei valori, degli ideali che poi però bisogna concretizzare e portare avanti perché la politica non è un qualcosa di astratto e di alieno rispetto alle persone, ma la politica fa parte integrante di tutti noi, decide della vita di tutti noi. Quando poi noi compiamo delle scelte politiche queste si ripercuotono sulla vita di tutti i giorni banalmente dal decidere di andare a pulire un pozzetto per evitare che si allaghi o a battere un albero perché a rischio crollo e quindi evitare che cada poi in testa qualcuno e quindi che qualcuno si faccia male. La politica deve essere vista come un qualcosa che fa parte integrante della nostra vita, non siamo degli alieni che si rinchiudono in un castello dorato e che rimangono lì e proprio se noi facciamo politica in modo concreto come faceva Giovanni Bianchi dando concretezza alla nostra azione allora questa diventa parte integrante e anche i giovani si rendono conto che non è normale che ci sia questo discorso che poi comporta anche una disaffezione perché poi i nostri cittadini sono anche gli elettori quindi non ci meravigliamo se poi al giorno d'oggi le persone che vanno a votare sono sempre di meno ma perché si vive la politica come qualcosa di staccato dalla nostra realtà sta soprattutto a noi politici a chi vive attivamente la vita politica della città far riavvicinare le persone in che modo dando appunto concretezza quindi lasciando spazio alla politica del fare e non invece alla politica del dire sicuramente Giovanni Bianchi è stato un esempio in tal senso e quindi con questo con questo insegnamento che ci ha lasciato noi lo ricordiamo e dobbiamo raccontarlo così ai nostri giovani sono certa che non mancheranno anche altre occasioni per coinvolgere magari i ragazzi e le ragazze più piccole proprio per portarli a conoscenza della grande persona che è stata Giovanni che ha contribuito sicuramente a dare lustro alla città di Sesto San Giovanni grazie buongiorno a tutti grazie di essere qua con noi sono diciamo il padrone di casa quindi porto una serie di cappelli diversi tra di loro adesso metto quello istituzionale sono il vice direttore del dipartimento un dipartimento molto composito che studia le lingue le culture in particolare di tutto il mondo quindi abbiamo tantissimi studenti sapete che è un centro un po' di eccellenza questo per rispondere un po' perché sentivo prima uno dei relatori che poi parlerà e si chiedeva del perché così vicini alla Bicocca siamo vicini alla Bicocca ma per un accordo degli Atenei qui si studia una cosa che non si studia da nessun'altra parte a Milano e cioè qui si studia un corso in lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale quindi qui si studiano dieci lingue e i nostri studenti studiano due lingue due culture e studiano diritto economia geografia sociologia storia storia economica anche in lingua quindi è una formazione che è nata da un accordo di più facoltà oggi le facoltà non esistono più se non per una gestione logistica facoltà molto diverse tra di loro che quindi hanno portato ognuna dal suo punto di vista qualche cosa appunto a questa formazione di questi studenti che vengono qua da noi appunto attraverso una selezione molto rigida perché qui abbiamo un numero chiuso perché l'università ha pochi mezzi e quindi praticamente prendiamo uno studente all'anno e ne mandiamo via tre sostanzialmente questa è la nostra struttura quindi una struttura molto selettiva come diceva appunto prima Vittorio ovviamente il lunedì è il giorno più impegnativo per i nostri studenti perché devono studiare inglese inglese vuol dire qualche cosa di immenso per loro di molto complesso di molto articolato perché appunto non è l'inglese standard ma è l'inglese orientato alla comunicazione al giornalismo alla cooperazione quindi è un inglese molto tecnico che parla pochissimo di letteratura e pochissimo di grammatica e parla molto delle diverse varianti che ci sono appunto sul pianeta quindi è una struttura molto complessa quindi a nome di tutti i miei variegati colleghi e soprattutto del direttore appunto porto quindi saluti quindi questo dovevo dirlo perché era il mio cappello diciamo istituzionale il direttore oggi è impegnato in sede a difendere appunto la nostra posizione rispetto ad altre faccende molto più complicate quindi non poteva essere qua togliamo questo cappello e mettiamo invece il cappello che a me piace di più che è quello di geografo io insegno geografia urbana e regionale qua e soprattutto poi insegno questa laurea magistrale geografia culturale quando ho conosciuto Giovanni nella sua fase post-parlamento come dice lui appunto in questo bellissimo libro stavo in parlamento come stare dal dentista c'è scritto che è molto bello le sue tre legislature pagina 101 è una cosa bellissima la frase con cui lui si è presentato vi racconto questa cosa semplicemente perché il geografo c'entra con questa cosa perché quando gli ho parlato di geografia urbana ok la città quando parlavo di geografia regionale ok diceva bene io ho fatto la geografia come si faceva con le maestre con la carta con la bacchetta per me la regione il Piemonte la Lombardia gli ho spiegato che oggi la geografia regionale è altra ma soprattutto lui mi ha chiesto cos'era la geografia culturale che era una cosa che a lui sfuggiva allora io rapidamente adesso non possiamo fare la lezione perché non voglio tediarvi però semplicemente gli ho detto che è la grande rivoluzione appunto degli ultimi decenni dove la geografia non studia più gli oggetti come pensano le persone geografici le montagne i fiumi le posizioni ma studia come gli individui i soggetti creano si immaginano e pensano al mondo quindi una geografia molto soggettiva dove quindi la dimensione della spiritualità è una delle correnti più importanti perché oggi una corrente appunto della geografia culturale si chiama appunto geografia spiritualista allora non dovevo dire questa cosa credo a Giovanni perché da allora ogni volta quando poi ci siamo visti anche per la presentazione di questo bellissimo libro Ripensare l'Europa delle fondamente una delle prime domande che mi chiedeva è come sta la geografia culturale e si apriva un discorso cioè mi spiace cioè era un discorso molto come dire interessante è forse un Giovanni Bianchi per voi inedito un Giovanni Bianchi che si interessa un po' di geografia in qualche modo in realtà nella sua opera Giovanni si è interessato molto di geografia io adesso qui non ho tempo ma vi dico le tre cose con cui parlavo di lui in particolare è molto geografica questa cosa parlavamo di Milano e di Sesto questo libro per esempio ne parla Ruggine va bene racconti sestesi parlavamo di Europa la cosa di cui abbiamo parlato di più in assoluto di Europa di cui ne parla molto qua in questo modo parlavamo un po' di resistenza e di evoluzione della Milano dal dopoguerra ad oggi in qualche modo e poi parlavamo di qualche cosa di lontano cioè dell'Africa per me era molto interessante perché come geografo io ovviamente ho una formazione più scientifica e più accademica e devo dire che Giovanni mi ha aiutato molto un po' anche per rispondere all'assessore a darmi anche questa visione politica molto affascinante del fare politica dal punto di vista pratico oggi i miei studenti qua non ci sono ma io ho appena finito di insegnare geografia politica due settimane fa ai miei studenti e un po' di questo discorso di parlare ai giovani di queste differenze tra ieri e l'oggi e soprattutto di delineare degli scenari futuri ha anche un qualche cosa di Giovanni Bianchi secondo me perché in maniera come dire un po' piccola e modesta però qualche cosa dei suoi discorsi inevitabilmente mi è entrata dentro e quindi anche le mie slide quando parlo di geopolitica in qualche modo penso un po' anche a lui allora detto questo per farvi un po' capire di che cosa parlavo con lui comincerei dalla cosa di cui ho parlato di più come dicevo cioè di Europa allora di Europa ne abbiamo parlato parecchio con Giovanni soprattutto in etica e politica abbiamo parlato di questo concetto di patrimonio di memoria comune non solo condiviso ma anche presente se deve continuare nel vecchio continente questo Giovanni di cui vi parlo adesso lo facciamo parlare è a pagina 140 di questo libro etica e politica dove si parla di Europa incompiuta e Giovanni dice l'Europa incompiuta e il cammino è tale per molteplici ragioni con una complessità che non è da leggere soltanto come rebus ed handicap il welfare europeo è poco più che europeo esso fa parte di quel profilo che segnala l'Unione Europea come attore atteso nuovo e perfino paradigmatico della globalizzazione con un ruolo geopolitico inedito non mi aveva detto Giovanni che aveva scritto questa cosa quando si è interessato di geografia io lo trovavo un po' strano perché generalmente i politici parlano di geografia ma non capiscono quasi niente di politica mi scuso con i presenti ovviamente lo usano o lo usano in maniera impropria hanno appunto un'idea di geografia che è quella dei moti dei fiumi dei confini e quindi spesso bisogna sopportare questa cosa non mi aveva detto Giovanni che aveva scritto questa cosa perché ce l'hanno insegnata così esatto perché in realtà è molto geografico quello che dice Giovanni questo passaggio che vi ho detto cioè l'Europa più retorica che istanza di rappresentazione politica e questo è molto interessante secondo me cioè l'Europa come pluralità di storie e percorsi che danno anche un'idea di malinconia e infatti lui ci parla di Europa malinconica sempre in questo libro e molto interessante questa Europa malinconica in qualche modo ma che non cessa di interrogarsi sui propri limiti e sulle proprie potenzialità ecco potenzialità dell'Europa il welfare le sue cose belle e allora Giovanni ovviamente qui mette dentro anche molto della sua esperienza maturata con l'associazionismo è molto importante è molto bello ha scritto delle cose molto belle accanto all'Europa delle cancellerie un ponte è stato gettato dall'associazionismo e dal volontariato europeo non poteva che essere così dato il suo grande trascorso nelle acli corrente calda della società civile con carattere umanitario e valenza politica non certo alla guardia di un impero quindi queste parole sono molto interessanti perché ovviamente un po' per collegarci anche a quello che dicevano prima i due relatori in Europa la democrazia non è un guadagno fatto una volta per tutte questo è molto interessante perché indica un po' anche quelli che sono i limiti dell'Europa di oggi e con Giovanni abbiamo parlato molto anche di una delle sconfitte più che vittorie dell'Europa che sono i Balcani a Giovanni i Balcani piacevano molto ne abbiamo parlato parecchio troviamo sempre anche questo aspetto che forse viene dalla sua esperienza quando lui giustamente alla Camera era in prima linea a dover trattare questo argomento molto scottante perché in fondo i Balcani sono stati un po' il ventremolle dell'Europa sono stati esattamente la negazione di quello che tutto un percorso diciamo occidentale tra virgolette questo continente ha creato a partire dalla rivoluzione inglese del 1649 e passando attraverso quella appunto francese quella russa e quella industriale in qualche modo questa Europa non vede i Balcani è il titolo che Giovanni aveva dato a questo capitolo molto interessante piuttosto un pass che sfida questi sono i Balcani in sé e per l'Europa un passato doloroso un futuro nebbioso Balcani incerti Europa incerta non a caso perché Sarajevo sta nel cuore di questa Europa come Madrid lo era negli anni 30 e come Madrid lo era nel 2017 direi anche per raggiungere questa cosa ecco questo è un altro aspetto molto interessante dei limiti Giovanni che potrei dire da questo punto di vista che era anche a suo modo un acuto geopolitico secondo me molto legato a questo modo di vedere appunto la geografia non soltanto negli oggetti ma anche dentro nelle persone da questo punto di vista e l'ultimo aspetto su cui vi voglio tediare su un Giovanni Bianchi geografo dell'Europa in qualche modo è il discorso che Giovanni faceva sulle radici classiche cristiane dell'Europa che valorizzano la dignitas ominis come dice per esempio a pagina 147 sempre di questo libro che ho riletto con piacere in questi giorni e proprio per per ricordarmi anche grazie a questa occasione il capitolo si chiama Le radici cristiane di un'Europa civile i titoli non sono mai a caso ovviamente è dall'angolo di questo rammarico che rileggo il testo cassato dal voto francese olandese successivamente semplificato nel 2007 a Lisbona il famoso discorso della Costituzione la Costituzione europea che poi appunto olandese e francese hanno in qualche modo cassato e questa visione di ampio respiro di Giovanni dove si dice che l'Europa pacificata si candida a esportare pace nel mondo anche a costo di rimuovere non con poca falsa coscienza la guerra nella ex Jugoslavia quindi il richiamo anche come dicevamo prima i Balcani in qualche modo ecco in questo Giovanni ho trovato molto anche di un personaggio che con la geografia c'entra poco ma che si chiama Clemente Regora che è un faro sicuramente per Giovanni ma la sua capacità di questo Giovanni che secondo me è proprio un geografo spiritualista mi permetto io da geografo di dire anche questa dimensione di Giovanni che sicuramente è poco conosciuta con questa ispirazione che ritorna negli incipiti di molti libri e di molte citazioni questo è un po' quello che vi volevo dire delle mie conversazioni a proposito di Europa vi parlerei poi rapidissimamente anche di Milano di Sesto visto che siamo anche qua dove abbiamo parlato soprattutto con Giovanni di direi tre momenti importanti la resistenza ovviamente resistenza senza fucile abbiamo parlato di ricostruzione lui era molto interessato anche al discorso della ricostruzione ovviamente non solo dal punto di vista materiale ma anche dal punto di vista dell'identità territoriale cioè come una Milano e una Sesto San Giovanni e l'area metropolitana milanese venissero ricostruiti nel dopoguerra ma che trasmettevano anche una identità territoriale nuova con me sfondava una parola aperta perché io e il mio collaboratore Giovanni Zanolin che qua avevamo appena scritto per la regione Lombardia un libro che si chiama La città messa a fuoco territorio e società e lavoro nella fotografia della città metropolitana di Milano quindi ovviamente come dire trovavo un terreno molto fertile di chiacchierata ecco abbiamo parlato un po' di questo abbiamo parlato con lui per esempio di attivismo educativo e sociale una cosa molto interessante lui ne parla in questo libro appunto la pagina 147 il libro è resistenza senza fucile una delle sue ultime fatiche l'attivismo educativo e sociale dove dice è al popolo che la cultura e i suoi approfondimenti e le sue battaglie vanno indirizzati per questo le idee e le campagne culturali non possono viaggiare soltanto di libro in libro ma hanno bisogno di figure che frequentino le parrocchie e battano il territorio e io su questo avevo aggiunto molto bene ma l'attivismo educativo e sociale deve essere anche territoriale io tiravo acqua al mio mulino da geografo ovviamente quindi vanno bene le parrocchie va bene battere il territorio ho detto e bisogna anche combattere ho detto con il microfono con le slide del powerpoint per trasmettere agli studenti in un clima molto difficile perché come diceva prima Vittorio oggi noi siamo e lo dico sempre ai miei studenti oggi noi siamo per noi docenti e docenti di geografia in un momento terribile perché io ho degli strumenti metodologici e di lettura di quello che succede intorno a me sono più vicino alla conoscenza della realtà ma i miei interlocutori che ho davanti sono circa 200 sono portatori di realtà molto diverse e soprattutto sono portatori di narrazioni della realtà non della realtà e questo è difficile per me da una parte mi rende affascinante perché i miei studenti ovviamente sono lì mi ascoltano ed è bellissimo vedere che racconto delle cose mi guardano in maniera come dire perplessa perché sto facendo un corso di alfabetizzazione del pianeta terra ma dall'altra parte mentre io vedo questa cosa più che gratificato sono preoccupato in qualche modo e Giovanni sarebbe stato anche lui preoccupato di questa cosa in qualche modo ecco bene allora questo un po' per parlare di questa zona grigia e inesplorata come la chiama anche lui sto usando le sue parole non sono le mie questa zona grigia inesplorata quando per esempio dice che bisogna abbandonare i toni dell'epopea e per scandagliare invece fino in fondo la quotidianità della metropoli e le sue pieghe ecco beh questa è una definizione che io come giografo non sarei riuscito a dare altrettanto bene come ha dato Giovanni cioè questa attenzione per la città in qualche modo quindi la città nella quale lui viveva è questo territorio molto bello e l'idea con cui abbiamo parlato spesso è questa di Milano e dell'area metropolitana non come rievocazione nostalgica ma invece in qualche modo come partenza per leggere e capire la città di oggi una città che è passata dalla dimensione materiale una dimensione soprattutto immateriale dove gli elementi bellici e umani di cui lui parla molto bene in Resistenza Senza Fugile si stemperano sempre più in qualche modo in bellissime pagine invece di attualità dove l'attenzione per una lettura anche semiologica e semiottica della città con i segni che dà con quelli che gli anglosassani chiamerebbero i landscape cioè i paesaggi ma declinati in sotto paesaggi molto particolari che sono i paesaggi degli odori dei suoni non necessariamente solo quello visivo con cui la cultura occidentale acquisisce informazioni perché noi siamo frutti di una cultura occidentale che impara attraverso soprattutto gli occhi circa il 90% di quello che impariamo lo impariamo con gli occhi e invece ci sono nei paesaggi anche i suoni ci sono gli odori i rumori ci sono anche i profumi e ci sono anche un po' quelli che potremmo chiamare appunto i nuovi paesaggi del meticciato della creolizzazione del cambiamento in qualche modo Giovanni anche di questo secondo me ne parlava e con attenzione è molto bello secondo me quello che lui ci dice per esempio qua a pagina 21 di un altro libro che è Ruggine va bene racconti se stesse per arrivare anche al discorso appunto se stesse Milano è proprio Chicago pensa Giovanni e si dà ragione per il paragone uno scende in un posto bendato e gli chiedono in quale città ti abbiamo traslocato la risposta è impossibile può essere Pittsburgh Francoforte Londra Barcellona Milano magari perfino Taranto è l'omologazione delle aree dell'industria e degli uffici le scritte tutte in inglese Milano come Chicago con qualche anziano in più perché da noi funziona si fa per dire lo stato sociale la gente si lamenta ma intanto campa campa perché l'anziano è un'invenzione recente non è il vecchio l'anziano nasce nel secondo dopoguerra ti curano dalla culla alla bara dal pannolino al pannolone è bellissima questa ironia secondo me di Giovanni bellissima visto dalla parte dell'Inps non si decide a morire è bellissima questa cosa e questi ritrati anche di Cesira la moglie che ci danno un'idea anche di un assesto in qualche modo in bilico trapassato ecco con lui abbiamo parlato un po' anche di questa cosa ma sempre una chiave contro la nostalgia e ultima cosa perché non voglio monopolizzare in questo discorso che dal mio punto vista geografico per San Giovanni è anche molto trascalare da Sesto a Milano è l'area metropolitana all'Europa e oggi andiamo un po' più in là con lui abbiamo parlato anche di Africa lui il maestro era lui io non sono un esperto di Africa perché sono soprattutto invece conoscitore di un'area che oggi sta emergendo con prepotenza io da molti anni studio un'area lontana da qui che si chiama Asia Pacifico oggi il pianeta Terra vi comanda viene da lì il 60% dell'umanità abita lì abita sono le tigri asiatiche i dragoni asiatici spesso nelle narrazioni vengono appunto e i miei studenti hanno in testa questo un mondo di tigri asiatiche di dragoni asiatici questo mondo appunto che rugisce di Africa so poco qualcosina so qualcosina perché oggi l'Africa è coinvolta di striscio in questa grande ambizione che è appena stata definita e rinnovata pochi giorni fa che è quella delle vie della seta le nuove vie della seta questa grande retorica one belt one road cioè una cintura una strada in qualche modo che è il grosso progetto con cui circa una sessantina di paesi del mondo saranno coinvolti in una sfida da qui al 2050 c'è dentro anche l'Africa ovviamente perché una parte di questo discorso riguarda soprattutto l'Africa orientale eccetera lì andavo io a lezione da Giovanni perché ovviamente Giovanni con la sua esperienza sul campo da come dire politico con tanto di cappello chapeau bisogna andava a vedere le cose beh lui mi ha insegnato tanto di questa Africa che in effetti è un po' il ventremolle del pianeta e appunto Giovanni mi raccontava di questa cosa è un lapsus ma non per caso con cui ho parlato anche l'altro giorno con Gianni che invece è il nome del mio direttore di dipartimento Giovanni parlava appunto di questa Africa che lui ha conosciuto che ha visto in qualche modo dei paesaggi molto diversi da quelli del quotidiano e mi diceva appunto che l'Africa che lui conosceva in qualche modo lo metteva a dura prova perché lui arrivava con il suo bagaglio di conoscenze e di strumenti di europeo di italiano di sestese quindi scendendo così e si trovava di fronte invece delle realtà molto diverse dove si capiva molto bene che gli strumenti di cui noi siamo portati i contatori funzionano fino a un certo punto e quindi bisognava adattarsi in qualche modo a capire e a leggere delle situazioni umane territoriali sociali ed economiche a volte che noi liquidiamo con molta velocità e con delle chiavi di lettura appunto in completo devo dire che quando si parlava di Africa io parlavo poco e parlava molto di più lui e io lo ascoltavo ecco insomma questo è un po' diciamo quello che mi sono dato oggi come compito cioè parlare di più di geografia e di Giovanni legato alla geografia e a queste sue tre dimensioni appunto del locale del nazionale e dell'internazionale grazie scusate se grazie a Dino Garinelli adesso Antonio Pizzinato etica politica il tema è il ruolo di Giovanni di Giovanni vorrei sovranarmi non sugli scritti il quale ci siamo spesso confrontati e discursi con Giovanni fino a quei giorni prima che ci lasciassero ce l'avranno a Calorati e come conto sull'ultimo filo sulla resistenza credo che sia importante io vorrei su questo fare alcune riflessioni l'etica e la politica nell'operare di Giovanni di Anchi nelle sue diverse responsabilità sin da quando era studente e per docente nel rapporto con le giovani generazioni ma più complessivamente con i mondi del lavoro con i cittadini l'ha fatto in ogni momento punto base del suo operare era l'etica e rigore morale l'ha fatto quando era consigliere comunale quando era responsabile delle atti prima provinciali poi di Lombarde in una fase molto delicata quando diventò presidente delle atti nazionali e poi successivamente nell'impegno politico parlamentare e negli ultimi anni come presidente dell'associazione nazionale partigiani cristiani ho detto che rifletto sul suo operare perché i miei rapporti con Giovanni sono di più di metto secolo è un rapporto costante sia quando militavamo in partiti lui era dell'educazione cristiana io nel partito comunista lui nelle altri io a sesto segretario dei metameccanici e via via perché sottolineo questo aspetto perché per lui l'operare il discutere non poteva prescindere dall'etica da rigore morale anche quando questo rendeva più difficile i rapporti lo ha fatto quando era alle acri lombarde e c'era un passaggio si stava costruendo un'unità sindacale vi era una diversità ma lui come dirigente delle acri contribuì a questo processo a Milano e in l'opera ma se volete a partire da sesto spesso su questo piano consentitevi di ricordare un passaggio spesso si discuteva nell'oratorio di Piazza Pecazzi con la presenza di padre Turoldo e altri che portò a sesto San Giovanni ad anticipare l'Italia nella costruzione del SUD del sindacato unitario dei metà meccanici perché sottolineava anche partendo dall'esperienza di suo padre l'opera della parte il rigore elitica e quindi la solidarietà con gli emigranti la parità e contemporaneamente un approccio molto forte tant'è che lui ha contribuito a realizzare partendo proprio da questa etica della solidarietà indipendentemente dall'origine dal sesso eccetera la sestesità era una concessione etica di valore nei rapporti solidari e forti da tutti questo contribuì con mani di anticipo a realizzare a sesto San Giovanni scusatemi è un'esperienza che ho fatto diretta perché allora questa responsabilità il sindacato un taglio dei metà meccanici sestesi che anticipò di un paio d'anni i processi in nazionale ma questo era anche per quanto riguarda il rigore nei contenuti e cioè come operare al fine di assicurare nei diversi aspetti parità di diritti di condizioni che grande fraternità consentitevi un secondo momento che credo spesso non se ne parla ma che è stato molto importante negli anni 80 fu chiamato a fare il presidente delle atti nazionali era un processo molto difficile perché uno dei ruoli fondamentali che assorse Giovanni e poter farlo per il rigore e l'etica con cui si è mossa era quello di ristabilire il rapporto tra le acri e il Vaticano e il Papa non era semplice vi era la rottura all'interno della associazione lui seppe ricostruire questa unità interna e contemporaneamente il rapporto che era fondamentale per un'associazione come le acri come il Papa il Vaticano potrei anche a questo riguardo credo che non sia stato a caso che a Sesto San Giovanni a 200 metri da questo luogo venne il Papa incontrò i lavoratori di tutte le aziende milanesi allora dove c'è attualmente il parcheggio era un'area di smestra e il grande rapporto il Vaticano ricorda perché determinò una forte discussione anche fra le istituzioni tra le associazioni perché l'intervento una parte di un lavoratore di un operaio e la cosa che colpì tutti era caro Papa ci conosciamo bene e ci capiamo bene perché tu sei uno che ha lavorato tutti arrabbiati perché il delegato della maniera di maniera di dar del tuo al Papa alla risposta del Papa che gli fece disse hai ragione ma è l'indicazione di qual era l'importante questo rapporto e anche su questo il contributo scusatemi di Giovanni è stato molto importante perché portò mi si permette per un bel po' di anni via 100 metri di distanza una responsabilità sindacale quando abbiamo costruito una sede un'Italia non era un caso che grazie a Giovanni per il camminare Martini a benedirci la sede e a stabilire un rapporto che per tutti gli altri è stato sottolineato non si può avere rapporti con il mondo se non ci consideriamo che siamo tutti uguali e dobbiamo costruire le condizioni per assicurare dignità agli ultimi l'Africa è un momento ma non è stato un momento di guerra che lui non si fosse impegnato con rigore e battuto il Parlamento nei confronti dei governi perché si rispondesse a queste problematiche vale per l'Africa vale per la guerra di Australia questo impegno è stato particolarmente determinato è forte nei confronti di Tangentopoli nei confronti di forme non corrette di rapporti con le istituzioni per lo sviluppo della democrazia e della partecipazione proponino questo aspetto perché consentitemi se il collega Giovanni la mia stessa esperienza siamo stati eletti a sesto per la stessa lista l'unico lui alla camera e io al senato i rapporti quindi erano non solo quando vi erano riunioni ma erano praticamente non c'era settimana perché andavamo a Roma ci trovavamo a Roma in Parlamento e ritornò a Sesto per lui vi erano degli elementi di fondo che erano venuti meno primo non considerare come presupposto e condizione della vita politica la partecipazione dei cittadini la partecipazione dei militanti nei partiti la partecipazione e la democrazia nel rapporto fra istituzione e cittadini e questa battaglia la condotta sia quando era la direzione del partito popolare ma anche quando diventò segretario del partito democratico milanese non si può essere espressione democratica della società se non gli è la partecipazione che vuol dire confrontarsi e discutere sul merito dei problemi confrontarsi e discutere nel scegliere con regole democratiche partecipate chi deve di volta in volta avere la rappresentanza ma contemporaneamente nel conservare questo rapporto fondamentale lui considerava assieme all'esperienza dei passaggi delle ricostruzioni mi diceva abbiamo discusso a lungo la fase in cui elaborava l'ultimo libro resistenza senza fucile e sottolineava dice noi che abbiamo vissuto anche supposizioni politiche diverse l'ultimo mezzo secolo siamo mai stati in queste condizioni di negazione di fatto della democrazia perché non vi è la partecipazione vi è praticamente la distruzione delle forze politiche come forma di partecipazione e di elaborazione senza questo non c'è etica non c'è l'espressione questo spirito e per far vivere i valori implementati nella costituzione e nati espressione nella lotta di liberazione sentiva una grande sofferenza e me lo sottolineavo continuamente perché lui era presidente nazionale anche io presidente e delle atti presidente nazionale dell'associazione dei patriciani cristiani e io presidente dell'antilumbaria e quindi i rapporti anche nella nuova responsabilità erano costanti e approfonditi ecco io considero fondamentale e vado a concludere far vivere la cultura l'etica il modo di operare di Giovanni Bianchi per formare le nuove generazioni a partecipare credo che non sia un caso ne discutivamo prima delle elezioni in casa di Giovanni sul crollo della partecipazione in una realtà che ha avuto un ruolo storico invece nel cambiare nel riconquistare la democrazia nel nostro paese e ci ha l'esempio di come si sono ridotti i partiti di come si è ridotta e sfruttata la democrazia e la partecipazione dobbiamo cambiare dobbiamo far vivere i valori l'etica in cui Giovanni ha elaborato proposti ha portato avanti la battaglia e ha operato ogni giorno nel formare le nuove generazioni perché non vi sia decenerazione il qualunquismo e contemporaneamente realizzare un sistema italiano europeo mondiale che abbia come fondamento la pace la coesione e la democrazia questo lo dobbiamo Giovanni e è fondamentale per realizzarlo grazie per il venito intanto sono particolarmente emozionato al padre di Giovanni assidue frequentazioni la lunga escezia e lo faccio con piacere lo faccio con piacere l'idea di fare qualcosa di più che un po' fatto dicevo alla Silvia quando abbiamo riaperto quest'anno Rossetti con una partecipazione molto elevata e attenta si mandava un punto di partecipazione con un numero di persone che non ci aspettavamo come apertura alla fine mi è venuta a dire Silvia Giovanni è qui quindi credo che in situazioni come queste lo spirito vive lo spirito vive e dico lo spirito perché in questa mia riflessione potrò mettere a fuoco tre momenti di Giovanni in particolare uno che poi permea tutti gli altri e perché è quello che è emesso meno in questa prima parte perché nel resto molte cose importanti sono state dette e la dimensione personale di Giovanni e distingue tre momenti uno strettamente personale e non tutti in ovo ma importante per me decisivo quando si fa di Giovanni che è la spiritualità un secondo momento che è l'etica e un terzo momento che è la politica è chiaro che queste tre dimensioni stanno in cerchio non in successione l'una influenza l'altra non si capirebbe l'impegno etico di Giovanni senza la sua spiritualità non si comprendebbe l'azione politica senza la motivazione morale quindi direi che queste dimensioni stanno in cerchio ma ognuna ha una sua specificità io conoscevo Giovanni da tempi lontani a livello di Acri Viena eccetera eccetera anche perché c'era una rete di amici comuni dei Pito Mai di Otrotta si stava sempre in zile ma c'era un momento particolarmente intenso di legame e poi a partire da lì si è sempre di più rafforzato che fa capo a due riviste che hanno visto Giovanni proprio con gli stessi affrontatori una prima che si chiamava Eremo in Metropoli notate Eremo è un'altra Bailamme sotto etolo prevista di spiritualità politica non di etica politica è spiritualità politica e su questo punto delle decadenze dei comportamenti degli appiattimenti conformisti e per un deficit di spiritualità di imperialità che è una forza dinamica è un potenziale grande dal punto di vista delle scelte soggettive e visto che parliamo di fede certe cose si fanno perché ci si crede e se non ci si crede davvero estiva il mondo non si fa e le motivazioni che spingono a credere possono essere le più varie e nel caso di Giovanni è chiaro che la sua motivazione la sua spiritualità era cristiana e di un cristianesimo particolare storicamente particolare che è il cristianesimo conciliare cioè dire di un momento della storia del cristianesimo in cui si realizzano due cose una grande autocritica della Chiesa rispetto a condotte passate quindi una sorta di riforma e spaviazione che poi si troverà nel giubileo di Giovanni Paolo II l'apertura alla modernità al mondo l'apertura alla modernità e al mondo sul piano delle istanze dei bisogni dell'uomo della comune umanità e cito per tutti per tutti come indicatore della scuola di Giovanni di quegli anni l'ecirca di Giovanni XXIII che per la prima volta non la invia ai vescoli ma a tutti gli uomini di buonanotte cioè ci sono dei bisogni delle istanze nel mondo che appartengono alla comune umanità quindi accanto alla motivazione spirituale interiore c'era questa istanza della mettersa a servizio della comune umanità ed allora è chiaro che si passa dalla spiritualità all'etica dalla motivazione interiore alla realizzazione delle cose e l'etica suppone che le cose si facciano insieme ecco la spiritualità diventerebbe una una separazione quindi anche dal punto di vista cristiano un'eresia se non diventasse comunità allora la prima cosa che l'espirazione cristiana esige e appunto questo è diventato poi un tema grande della tradizione politica cristiana l'espirazione cristiana di mettersi a servizio la politica come servizio non a Dio ma partendo dal rapporto con Dio servizio alla umanità e quindi incontri tutti perché diventa servizio di tutti questa è l'etica e partiene anche alla tradizione del partito dei cattolici del partito cattolico questa dimensione della politica come servizio che appartiene poi appunto una grande tradizione a cui si ispirava Giovanni e su cui si è formato intendo Maritain intendo Munier Maritain la politica come servizio Maritain 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 ma politica come servizio Munier il prismetto grande della persona e della rivoluzione morale c'era un citturino famoso celebre di Munier la rivoluzione o sarà morale o non sarà molto più tardi e con altre caratteristiche con altre dimensioni da lingua di forma morale quindi la rivoluzione morale o non sarà perché la differenza tra la rivoluzione e la ribellione e che la ribellione è reattiva molte volte è violenta verso l'aggressione del male esterno senza pensare che noi siamo portatori di male e che quindi ci bisogna di una modificazione soggettiva perché si possa sviluppare un servizio bisogna liberarsi come si dice dall'attivante dell'io e quindi su questa base una distinzione molto importante tra legalità e etica non sono la stessa cosa è chiaro che se si è etici non si è illegali se si è etici non si è illegali ma se si è legali non è detto che si è etici perché la legalità è la conformità ad una norma l'eticità invece è il movimento spontaneo verso il bene la legalità è produttiva l'etica è generosa la legalità è anche come dire indotta dalla potenziale della sanzione l'etica invece è dalla espansione del bene cioè sono due cose completamente diverse ecco perché il legalista può fare politica senza un progetto l'uomo morale se non ha un progetto non può fare politica perché le etiche sono diverse cioè il modo di mettersi a servizio è una cosa ben diversa da non scarrare rispetto alla norma se hai istanze istanze morali quindi tu vedi che il bene si può espandere al di là della legalità data tenderai ad essere legalmente eversivo perché l'etica mostra che la legge è arretratta rispetto al bisogno che è darda rispetto alle esigenze della società dei contagiatori noi abbiamo avuto una simulare debout si è persa prima l'etica perché sono venute meno le motivazioni e nel momento in cui sono venute meno le motivazioni si è trapassati tranquillamente nella illetalità e la democrazia cristiana come prima detta palena bianca è stato un fenomeno che è diventato patologico perché ha trattenuto dentro tutto il contrario di tutto perdendo perfino la sua identità dico di passaggio ma questo ci vorrebbe un discorso politico e questo lo aveva capito bene Aldo Moro l'ATC non può crescere più di quanto sia cresciuta non ha margine di crescita può solo esplodere e allora dobbiamo trovare un'altra partnership che è l'esplosione dell'ATC lo faccia esploda della nazione staremo qui fin quando potremo ma sappiamo che non può essere sempre dobbiamo legittimare l'altra parte ma non la legittimazione costituzionale che già c'era ma l'esclusione di fatto di una forza polibica perché uno dei motivi fondamentali per cui è esploda da Gentopoli è stata l'impossibilità di un ricambio naturale delle classi dirigenti e nel deficit di alternanza era inevitabile la potrefazione perché la democrazia è tante cose è multifattoriale la democrazia ma uno dei suoi elementi di giudizio è l'alternanza perché non è con i giudici che si cambia la politica allora nel momento in cui c'era una parte che non poteva andare ufficialmente al potere si scambiavano sotto anche i favori e quindi cresceva la corruzione e prendeva anche l'altra parte in un commercio in mondo perché non c'era il cambio e allora è chiaro che la situazione politica marciva non è che le altre nazioni europee gli altri stati europei fossero più virtuosi di noi ma avevano un meccanismo di ricambio che permetteva che si decantassero le scoglie senza crisi di sistema noi abbiamo avuto una crisi di sistema perché non abbiamo avuto un meccanismo che decantasse le scoglie l'apertura di moro i cronisti era in questo senso la PC non può crescere più oltre e nel momento in cui le cose cambieranno lo spederemo che di questa balena resteranno in pochi e molte se ne andranno e così è stato perché quando adesso c'è stata una grande diaspora e sulla diaspora dei pandini di Nascimento che si è presentato come outsider ma ha raccolto tutte le seconde terze quarte linee e nei segui della prima repubblica li ha messi tutti insieme è diventato un grande ricovero degli ex questo è l'obiettura che dobbiamo dare che sono i fenomeni di un collasso naturale di una democrazia imperfetta e allora il deficit morale è diverso chiaramente per di più non c'era la spiritualità la secolarizzazione le faceva tramontare le grandi fedi sia quella cristiana che quella della rivoluzione proletaria la società si secolarizzava e nella secolarizzazione della società non c'erano più valori di riferimento non lo erano più né l'Unione Sovietica né la Chiesa e senza l'Unione Sovietica e senza Chiesa quali saranno i rivoluzioni non si trovano più non si trovano più ma ci sono che ha storie raccontabili ecco quindi l'etica come progetto di società quello che è venuto meno è questo l'etica come progetto di società e quindi il grande arretramento è che ci siamo dovuti difendere dalla illegalità immagina se potevamo pensare a un'etica come organizzazione della società nell'ordine del bene comune perché poi in una società rattumata e partita la corsa si sa di chi può in due tempi negli anni 80 arricchitevi impoverendo lo Stato e aumentando il tempito pubblico nella seconda parte aggiostatevi per vivere meglio gestite la vostra trattarietà con un aumento della sovralternità e con la sovralternità il voto di scambio laddove non c'è più la politica come servizio aumentano le servitù sociali chiamiamolo così la sudditanza della clientela infatti uno negli ultimi anni negli ultimi 5-6-10 anni uno dei problemi assidui sia come dossetti personali era la crisi della rappresentanza cioè il grande problema è la crisi della rappresentanza di cui la la mancanza al voto è il minimo ma mancanza al voto del minimo c'è di peggio è difficile organizzare la società è difficile organizzare la società si parla dei giovani ma dove li trovi i giovani non li trovi neanche in università i giovani perché transita non ci ridono non li raggiungi i giovani geografo perché c'è una crisi degli uomini c'è una crisi degli uomini sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista umanistico dove stanno tra discotechi bar e disperazione dove stanno come si trovano e nel momento in cui l'interesse per la società in generale no di sentirsi parte di una totalità sparisce perché uno gioca nei termini della sua sopravvivenza che cosa si creano? si creano enclav di autocustodia che si tengono legati a difesa detto in altri termini con un deficit della fiducia civile la fiducia diventa una fiducia parentale strettamente amicale e in termini casi mafiosa laddove non c'è la famiglia universale c'è la famiglia mafiosa per autotutella ma poi siccome l'uomo è tende alla perversione quello che parte all'inizio come autotutella diventa stile di vita costume e modo ordinario di condotta le grandi discussioni con Giovanni dolorose dolorose degli ultimi anni dove li troviamo come aggreghiamo una società e poi visto che qui c'è Pizzinato come vi diceva uno dei elementi fondamentali è che il problema del lavoro esiste anzi è cresciuto la proprietà è tremenda ma non esiste più la classe vera non esiste più la grande fabbrica quando Marx pensò alla classe aveva in mente Manchester una delle ragioni profonde della crisi dei partiti della sinistra è che il modello su cui originariamente sono nati non c'è più perché sono nati pensando all'operare di fabbrica e oggi abbiamo un lavoro che non è più nella fabbrica cioè non è finito il lavoro non è finito l'operare è finito la classe se così vogliamo dire allora un modello politico costruito fra la classe in una società dove non c'è più la fabbrica come fa a diventare il modello organizzativo di un partito e l'altro tema dibattuto con Giovanni era noi abbiamo goduto di un patrimonio culturale grande oggi abbiamo un deficit di cultura e di conoscenza perché non c'è più come organizzato la rappresentanza e allora è chiaro che le strutture permanenti dell'organizzazione e della rappresentanza le strutture stabili parli di associazioni e questi sono dei veriti e allora la politica inevitabilmente è diventata una successione di eventi adesso tra l'altro le campagne elettorali sono eventi costanti allora aggiunge a questo la rivoluzione digitale aggiunge a questo le fake news allora siamo in una situazione assolutamente ingovernabile ma questo è del mondo questo è del mondo eh questo è del mondo perché in Russia abbiamo un autocrate che è Putin in America abbiamo visto questo successo con Trump no? l'America fonda risentita la scena mondiale è inquietante è inquietante e chi ha in mano il mandor della madassa? una domanda che io vi faccio sempre ma sappiamo davvero dov'è il potere? chi lo deviene? e allora il vecchio Marx quando diceva che i parlamenti borghesi erano sostanzialmente la maschera del capitale l'hanno buttato da mare ma non aveva fuori tutti torri solo che la sua speranza era di rendere sostanziale la democrazia il risultato è che oggi la democrazia sta diventando spettrale e lo sviluppo della società è stato perfettamente inverso rispetto a quello che Marx vuole dare a dire non dalla democrazia sostanziale non dalla democrazia formale alla democrazia sostanziale ma dalla democrazia formale allo spettro della democrazia e i discorsi segreti segreti facevo all'inizio del sette degli ultimi cinque anni che vedevano Giovanni annosciato era come facciamo a tenere insieme una società che si spappo se voi leggete ediche politica larga parte dei saggi dei testi sono dedicati alla descrizione di questo spamponamento di questo squagliamento con una speranza di tenere insieme e allora qui la dimensione buona come la capacità di sentirsi parte di una totalità e qui l'etica diventa un compito l'etica diventa un compito e chiaramente poi deve trovare nella politica le modalità organizzative per fare questo quindi l'obiettivo per ricostruire la società deve essere una forte istanza etica oggi noi il meglio che possiamo ottenere è la legalità ma con immagini di società dove rendi la giustizia e per dirla in termini cristiani dove i poveri siano riscattati perché al fondo del discorso di Giovanni il testo che ha scritto su Martini è l'annuncio che da Gesù nella sinagoga di Nazareth quando prende il rotolo di Isaia e dice indietro il signore è sopra di me mi ha consacrato e mi ha mandato a portare la buona novella ai poveri allora in una società dove si persegue o per ascesa o per difesa in particolare per ascesa acquistare potere dominare per difesa salvarsi e qui si ha una sostanziale collusione tra chi ascende per comandare e chi si accorda con colui che ascende per difendersi questo è il populismo in Italia noi siamo in una situazione questa è molto importante anche per il in cui noi abbiamo un'Italia civile ed etica della tradizione costituzionalista resistenziale quest'Italia c'è c'è ed è forte perché se non ci fosse sarebbe già per paratro ma la somma dei sudditi e dei ribelli batte i cidici che l'Italia civile è vinta dalla somma maggiore di sudditi e ribelli che a fronte di qualsiasi riforma buona o cattiva che sia si accordano contro la riforma costituzionale poteva essere fatta meglio stretta meglio tutte cose ma se voi vedete che cosa è accaduto è accaduto che di fronte alla riforma sudditi e ribelli hanno detto no l'uni per difenderla l'altra gli altri per dire che era troppo poco perché il meccanismo è questo allora visto che è troppo poco non la facciamo se non abbiamo una scrittura perfetta non la facciamo ma siccome una scrittura perfetta non c'è mai perché la costituzione italiana già quella che noi apprezziamo è stata un grande compromesso e non è una scrittura perfetta perché la nostra costituzione nella prima parte sui principi è una grande costituzione ma nella seconda parte non è una costituzione è una legislazione le altre costituzioni nel mondo non hanno seconde parti così è chiaro che nasceva dopo il fascismo e quindi c'erano meccanismi difensivi evitare 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 ma questo ha bloccato l'evoluzione della costituzione rispetto al dinamismo forte della società allora i ribelli e i conservatori sommati insieme battono oltre qualsiasi distanza informatrice ecco io che voglio chiudere questa mia riflessione perché capite che i temi sono tanti che da questo punto di vista Giovanni non è molto felice non è molto felice perché essere soggettivamente una brava persona è sempre troppo poco rispetto a quello che possiamo fare per la società e sentirsi impotenti rispetto al processo è quanto di più grammatiche non è importante però avendo spiritualità vittorio al discorso di per nonostante tutto ha continuato a formare e quindi uscito dalla politica per quel tanto che c'è stato continuare a lavorare nel mondo cattolico cercando di tenerlo insieme di fecondare nuove generazioni ha fondato i torsetti gli ultimi anni di Giovanni sono stati quelli di un predicatore itinerante e dal primo valore l'ha accorto quando era appisa la prima cosa è di nuovo cioè dire per tenere insieme allora bisogna andare in qualsiasi luogo e cercare di aver accettato la candela come? nella penetrinazione cioè anche qui il modello spirituale questa è una nuova evangelizzazione cioè se non li troviamo se non li troviamo dobbiamo andare a cercare nomi se non li troviamo devono averlo perché si può e quindi se non è molto felice non è molto infelice perché chi ha una responsabilità morale chi gli è dato un compito lo continua a fare lo continuo a fare in ogni caso e torno all'inizio al sentimento e al gesto spirituale con una frase di Luca per pagare di Luca che si può leggere anche in modo molto laico e quando avrete fatto tutto quello che dovevate fare sentitevi servire inutili facciamo lo stesso e questo è un messaggio che nella crisi della politica e della rappresentanza l'azione ultima di Giovanni ci ha dato facciamo lo stesso tutti anche se noi li vediamo terra ma adesso sono un po' confuso perché Gioiello mi ha dato il compito di parlare del Giovanni politico ma di fronte così a questo fuoco che abbiamo investito insomma perché Natoli è sempre così un incendiatico e quindi non possiamo non interproquire io condivido condivido insomma questa analisi di fondo del professor Natoli e anche nella sua capacità veramente coinvolgente insomma intrigante di cogliere gli elementi della crisi e di capire da dove si può ricominciare allora cercherò di dire alcune cose anch'io sul tema etica e politica parlando di Giovanni e poi concluderò parlerò un po' del tema che lei ha dato insomma ho lasciato a Silvia tutti gli atti dei suoi interventi in commissione in aula così se volete fare una ricerca avete la possibilità di ma mi pare che si possa definire Giovanni è stato definito un formatore sicuramente un predicatore itinerante anch'io mi definisco un predicatore itinerante ormai da quando ho smesso di fare il parlamentare non faccio altro che andare in giro io ero a Milano anche sabato andare in giro insomma cercare di tenere uniti di tenere vivo insomma di combattere la depressione di aiutare a individuare qualche via d'uscita e bisogna fare queste cose insomma sapendo che tutto dipende da noi insomma e soprattutto sapendo che non c'è stato assicurato che vedremo i risultati di quello che si sta facendo anzi insomma anzi contrario spesso quindi Giovanni è stato sì un formatore fino all'ultimo istante un formatore di nuove generazioni è stato un nuovo politico particolare che definirei con una immagine di Dossetti un liturgo Dossetti ha usato questa espressione per parlare appunto dei politici cristiani che assolvono alla funzione alla missione alla responsabilità dell'impegno politico con la intelligenza con la dedizione con la passione ma soprattutto con l'intelligenza storica insomma è una liturgia lui stesso dicevo una liturgia particolare quella che è affidata ai laici che si impegnano nel temporale e lui è stato sicuramente un biturgo nel senso che si è impegnato nella vita politica nel modo che in particolare il professor Natoli ci ha descritto nei termini così intriganti in senso così veri diciamo che per coinvolgere anche il professor Gavinelli è stato un inventore di paesaggi politici nuovi nel senso che era un intellettuale che non si limitava ad approfondire gli eventi della crisi della responsabilità del rapporto etica politica diciamo che non era un intellettuale astratto nel senso di lontano dalla necessaria concretezza che ripete dalla storia insomma di chi è la concretezza che è dovuta al fatto che si impegna in politica si impegna attraverso i partiti sa che i partiti sono dei facitori di storia la loro missione è questa e vanno in crisi quando smettono di fare la storia di costruire la storia questa è una definizione mi pare di Gramsci ma è assolutamente accettabile insomma dei costruttori di storia Reichen perpetuta sino all'ultimo insomma ecco la missione dei partiti è questa e quindi è una missione di pensiero ma anche di grande concretezza e lui è stato sicuramente un uomo così altri l'ha definito perché dico inventore di paesaggi politici nuovi perché nel passaggio dalla democrazia cristiana se diciamo che politicamente il luogo in cui è nato è la democrazia cristiana il passaggio dalla democrazia cristiana al partito popolare lo ha visto protagonista l'invenzione della margherita cioè della coalizione tra le forze politiche che si muovevano in un'area assimilabile lo ha visto protagonista l'invenzione dell'urivo lo ha visto protagonista anche se non era più in campo per una decisione cinica della politica perché non si capisce per quale ragione si sia fermata la sua esperienza parlamentare in quel momento sappiamo che nella politica ci sono anche queste occasioni questi momenti di di particolare cinismo qualche volta anche di crudeltà lui ha toccato solo il cinismo non la libertà ma il cinismo lo ha investito nel senso che di Bianchi c'era bisogno sicuramente il Parlamento anche dopo quando lui era uscito in 2006 se ricordo bene nel 2006 quando era uscito ma insomma quindi questo senso è un inventore di paesaggi politici l'olivo si è perfezionato e scritto nel suo ufficio Andrea e Romano Prodi erano nel suo ufficio e guardate che non era un passaggio semplice perché non è stato un passaggio semplice per i giudici diciamo il versante comunista allearsi con gli ex democristiani ma insomma era quasi un passaggio obbligato dopo quello che era successo nelle elezioni del 1994 ma per una formazione post democristiana è stato un passaggio molto complicato se non ci fosse stata l'autorevolezza di questi attori e l'intelligenza di questi attori e la capacità pedagogica di questi attori tra cui sicuramente anche Giovanni Bianchi nello spiegare al popolo del partito popolare il senso di questa operazione insomma non so se l'operazione si sarebbe fatta insomma quindi in questo senso è l'inventor di noi paesaggi politici ma ha potuto farlo perché fondamentalmente io quando penso a Giovanni Bianchi penso a un uomo che per tutta la sua vita è stato in cammino non si è mai fermato e aveva un passo anche spedito non solo per la sua consuetudine con la montagna ma aveva un passo spedito perché conosceva la direzione di marcia ha vissuto dei momenti di difficoltà anche all'interno della chiesa di cui si è sempre sentito figlio fedelissimo proprio per questa sua propensione sempre a spostare la tenda era un uomo della tenda da questo punto di vista che spostava sempre un po' più avanti ha subito anche delle accuse all'interno delle atti all'interno del mondo cattolico di un uomo che rifiutava la tradizione in questi giorni in queste ore sulla rete sta diventando abbastanza virale soprattutto su twitter questa frase di Gustav Mayer che è stata postata da un monaco milanese di Bose tradizione è conservare il fuoco non adorare le ceneri ecco mi pare che Bianchi era rispettoso della tradizione in questo senso che ha sempre conservato il fuoco e non ha mai adorato le ceneri del passato in questo è un uomo libero è un uomo in cammino un bel ricordo fatto da Lorenzo Prezzi che non conosco ma mi pare che sia un suo allievo sia stato un suo allievo perché parla dell'esperienza scolastica lo si definisse un uomo post che è lo stesso modo di dire quello che ho appena detto insomma lui lo definisse post conciliare post democristiano post militante post cioè un uomo in cammino che ha sempre perseguito degli obiettivi ulteriori più avanzati e dire in questo senso un annusatore dei tempi nuovi il professore Gabinetti ha parlato della geografia dei conti che era un annusatore dei tempi nuovi nel senso che quella bella importante frase che ci ha detto all'inizio gioiello che mi sono annotato anch'io insomma che non è più antipolitica è un'affermazione di inutilità della politica rivela questa capacità di di intuire i tempi il processo di degenerazione che investe la politica è più grave di quanto non sempre perché l'antipolitica è comunque il sapore della politica di una politica altra di una politica che contesta di una politica che si ribella o di una politica che rifiuta quella che è ma insomma la politica inutile è veramente una cosa molto preoccupante se la politica come diceva Robert Musi l'ha fatto dire nel protagonista del suo romanzo L'uomo senza qualità la politica è il luogo in cui si decide ciò che accade ma che serve la politica la politica non può diventare il luogo in cui si decide ciò che accade ma se non hai più pensiero se non hai più progetto come diceva il professor Lattoli finisse per essere appunto finisse per essere il luogo in cui si decide il day by day quello che accade comunque a prescindere e diventa difficile dire che la politica non è inutile se appunto si limita a decidere ciò che accade come negli ultimi anni un po' sta accadendo e perché decide ciò che accade perché appunto ha perso il respiro di un disegno il respiro di un disegno in questo senso l'ultimo grande architetto della democrazia della Repubblica è stato Aldo Moro e poi in discussione dopo Aldo Moro abbiamo siamo sopravvissuti non è abbiamo vissuto esperienze in modo siamo sopravvissuti e ovviamente con una rendita che nei primi tempi era anche importante che è andata a dire quando si man mano ci si distanziava da quegli anni però ecco c'è stato il tentativo di Berlusconi che non era un tentativo privo di disegno seppure malefico per quanto mi riguarda ma non era privo di disegno il tentativo di trasformare la democrazia in una idea medicia nel senso dei medici del principe che si rapporta col popolo vai passando rendendo inutile quello che c'è in mezzo rendendo inutile quello che c'è in mezzo e da questo punto di vista bisogna dargli atto che quello che lui ha realizzato è stato invitato nel mondo il primo a teorizzare nei tempi recenti insomma la conservazione e la sopravvivenza della democrazia in un modello di rapporto diretto tra principe e popolo quindi non la tirania non il dittatore ma una democrazia principesca e questo modello è un modello che sta ampiamente imitato nelle democrazie occidentali tutte più o meno private della dimensione spirituale anche ideologica perché anche la dimensione ideologica dava respiro sicuramente contenuto anima alla politica e quindi è andato avanti un modello di questo genere favorito dalla tecnologia perché io assieme a Violante ho chiuso recentemente un corso di formazione sulla costituzione alla fine nell'ultima riunione ci hanno chiesto questi ragazzi ma che cosa ne pensate del rapporto fra rete e politica e tutti e due abbiamo dato la stessa risposta ma la rete visto che ormai la gente non partecipa più direttamente all'attività delle sezioni o dei circoli perché la televisione ha cambiato i costumi ha trasformato la società in opinione pubblica eccetera eccetera tutte le cose che siamo soliti dirci almeno la rete è una forma di partecipazione alla politica siamo stati sepolti da una crassa risata da parte di questi ragazzi come a dirci e ce l'hanno anche detto ma come si capisce che siete di un altro secolo in costa vera anagraficamente storicamente noi non vogliamo partecipare alla politica quando quando siamo sulla rete noi vogliamo decidere e voi capite che si cambia la natura della democrazia perché a proposito della crisi della rappresentanza la rappresentanza è andata in crisi per i cattivi esempi per il degrado della politica ma anche perché questi nuovi strumenti alimentano un desiderio di democrazia diretta se 70 anni fa non si poteva ipotizzare che siamo 60 milioni di italiani entrassero nell'aula di un otisitorio adesso ci possiamo entrare tutti tu non mi rappresenti io mi rappresento da solo perché devo farmi rappresentare da te guardate che anche tutta la polemica sui vitalizi su anche fare con questa idea perché un mio un ex collega di Pizzinato senatore ex sindaco di Ravenna cito Ravenna perché il rapporto tra Pizzinato e Bianchi era paragonabile a quello tra Bollini e Zaccanini la stessa terra insomma no uno bianco e l'altro rosso insomma erano sempre in grande intesa e a un certo momento in un circolo di fronte alle contestazioni in questo senatore mi ha detto lui fa guarda non avevo più argomenti che ho tirato fuori il mio statino ho dimostrato che io do al partito questo e quest'altro eccetera eccetera che mi tengo alla fine 2500 euro e non 10.000 20.000 come si dice in rete eccetera niente allora fa perdonami guarda ho tirato due madonna e poi ho detto ma perché questi problemi non vi avete posti a Zaccanini e a Bollini c'è una ragione e la ragione era già nella domanda perché Zaccanini e Bollini avevano una credibilità un'autorevolezza che consentiva di perché non avete posti a Bianchi e a Pizzinati per questa stessa ragione ma oggi questi problemi vengono anche perché appunto l'inutilità della politica io mi rappresento da solo tu non mi rappresenti io ne capisco più di te io sono più competente di te perché attraverso la rete io metto a fuoco le questioni voi capite che la crisi della democrazia ha a che fare con processi di questo genere quindi diventa molto difficile affrontare allora voglio dire Giovanni Bianchi aveva intuito che saremmo arrivati e lo ha scritto appunto al momento della inutilità della politica vedete dall'antipolitica all'inutilità della politica il passaggio alla negazione della politica è rapidissimo può essere può avvenire in tempi più rapidi di quanto noi non possiamo sospettare e guardate che a questo punto non saremmo di fronte solo a una trasformazione del modello democratico ma diventerebbe la negazione del modello democratico qui c'è il fascismo e guardate Giovanni Bianchi che accetta di fare il presidente dei partigiani cristiani e che quando riproduce questo queste poche righe della introduzione alle querce di Montessore di Dossetti è un dato incontestabile che Auschwitz non è stato un puro episodio isolato seppure tremendo e nemmeno un certo periodo della storia moderna ma un punto di svolta un'era nuova in cui il progresso tecnologico la pianificazione politica aveva questa idea di quella stagione politica Giovanni Bianchi diciamo Auschwitz possiamo dire Montessore possiamo dire è un punto di svolta per cui l'uomo capisce la necessità della politica e della democrazia ma se arretriamo quasi senza accorgercene in questi giorni lui non era tra noi Giovanni ma quando io ho visto l'altra sera una trasmissione televisiva in cui è stato coinvolto un esponente di Casa Pound di Ostia e il conduttore si è giustificato all'inizio dicendo ma io non faccio politica io registro un fatto io è importante sto parlando di Formini non di un qualunquista diciamo io non faccio politica registro un fatto la dodicesima disposizione finale della Costituzione non esiste più nella memoria nella memoria di chi ha una responsabilità immensa nella formazione dell'opinione pubblica come sono i conduttori televisivi per cui ci si sta abituando a tutto le magliette di Anna Frank gli assalti selvaggi ai monumenti civitaliani degli ebrei proprio qua a Milano la pretesa di celebrare il 28 tor la pretesa di celebrare il 28 ottobre allora voi capite che ormai non si tratta di relativizzazione del tutto si tratta di avere perso la condizione che appunto a uscita è stata una sguota nella storia perché se tu non hai presente questo tu puoi ritrovarti quasi inconsapevolmente oppure ancora di più consapevolmente in una situazione che è quella del passato consapevolmente perché teorizzi che tutti hanno diritto di e poi in un altro momento della trasmissione il suddetto commentatore diceva perché non andate voi questi qua sono molto amati a ostia perché ci sono le famiglie bisognose che distribuiscono a domenica i pacchi alimentari perché gli altri partiti non fanno queste cose il fascismo è nato anche come patronato sociale in quegli anni più della post prima guerra mondiale nascono tutti così ma la cosa che a me colpise l'indifferenza con cui si sta scivolando verso allora vi capite io sono molto interessato sono stato rapito come mi capita spesso insomma quando sento il professor Orecco il professor Natoli ma da questo richiamo alla sostanza della politica o la politica recupera la sua ragione d'essere recupera un disegno e recupera un atteggiamento soggettivo in chi la pratica cioè servizio non il mestiere non la professione mi pare che fra delle altre cose che mi avevo fotocopiato c'era una frase su i mestierati della politica della l'area comunque insomma l'area ricordo spesso insomma come citazione ripresa da Giovanni Bianchi insomma quindi recuperare l'atteggiamento che è una cosa essenziale lo spirito con cui tu fai queste cose e tutto il disegno ma insomma non voglio parla troppo lunga ho tanti di quegli appunti che mi consentirebbero di approfondire vari aspetti dell'esperienza politica di Bianchi ma siccome appunto il professor Gioiello mi aveva chiesto di parlare del bianco politico farò un cenno finale inevitabilmente molto rapido voi sapete che è stato in politica presidente del partito popolare dal 1994 al 1997 è stato deputato nella dodicesima nella tredicesima nella quattordicesima legislatura è stato membro della quarta commissione difesa nella dodicesima è molto interessante io questo non lo ricordavo che un uomo di pace pacifista come lui ha voluto andare nella commissione difesa era stato militare è stato alpino ricordava sempre la sua esperienza di alpino era sicuramente concifista ma è bello perché ha voluto andare nella commissione difesa e poi fino alla fine sempre nella commissione estera e altre commissioni che non sto a raccontarvi perché appunto per esigenze di tempo faccio tutto l'elenco delle cose che ha fatto che è una cosa infinita questi sono solo i titoli delle mozioni che ha presentato delle degli interventi che ha fatto in commissione nella commissione era quasi sempre l'attore e quindi guardate che il lavoro dei parlamentari normalmente lo si giudica dalle presenze in aula ma in aula ci si è sempre per forza di cose perché bisogna mantenere la maggioranza e poi adesso non è stata introdotta adesso sono da 10 o 15 anni è stata introdotta anche la norma che si comprono i voti in aula per stabilire la misura della indemnità quindi in aula ci si è sempre quando si dice ma in commissione dove vanno in pochi è il lavoro più complicato perché le leggi si fanno in commissione si costruiscono gli impianti si definiscono nel lavoro di commissione è la cosa che colpise si vede le carte che ho dato a Sivia ma insomma ce n'ho qualcuna anche qua lui è sempre l'attore quindi vuol dire che intanto è presente secondo che ha un'attitudine come dire alla costruzione di punti di incontro perché l'attività legislativa è complicata anche per questa ragione perché bisogna trovare dei punti di incontro vuol dire che hai un'autorevolezza che ti è riconosciuta anche dalle minoranze o dalla maggioranza secondo che tu ti sei trovato parlamentare sia in maggioranza che in minoranza ti viene riconosciuta questa autorevolezza e questa intelligenza legislativa che è una cosa non consuibile vi assicuro che è così in ogni caso se volete giudicare i parlamentari anche in carica oggi se volete vedere se lavorano o non lavorano non andate a vedere il numero delle presenze in assemblee andate a vedere il lavoro in commissione se intervengono o non intervengono perché per intervenire bisogna conoscere la materia perché in commissione il rapporto è un rapporto molto prossimo non puoi dire va già anche quanto anche un microfono in un'assemblea se no ognuno dice perché vuole poi tanto alla fine si vota come è già previsto ma lì attorno a un tavolo non è che potete pagare voi vedete anche molti di quelli che si cantino a tornare il paese fra qualche mese vedete poco in commissione e soprattutto misurate la qualità dei loro interventi se volete divertire e lui si dedica praticamente a questo a tutti i provvedimenti che si occupano appunto a proposito dell'Africa Giovanni l'Africano insomma ecco veniva chiamato insomma tutte le materie che riguardano gli aiuti ai paesi in via di sviluppo in particolare mostra un'attenzione e una competenza specifica sull'Africa interviene sul in particolare sul grande provvedimento che ha riguardato guardate io avrei potuto selezionarne mille di queste cose perché sono mille insomma ecco più o meno questi atti che lo vedono protagonisti a presente ma le prese solo alcuni per per citarli appunto qualche qualche chicca insomma dei suoi interventi in generale relazioni anche abbastanza impegnative la definizione di federalismo non è un caso allora che il senso e il respiro della convenzione siano stiamo parlando di una convenzione con la banca mondiale per i contributi il senso e il respiro della convenzione siano quelli di un federalismo non ridotto a ingegneria istituzionale ma quale punto di raccordo di soggettività plurali che nella cooperazione non smarriscono anzi esaltano diversità e reciproche differenze potrei alludere ai due grandi principi senza i quali il federalismo viene svuotato la solidarietà concetto e pratica da non confinare nel dimenticatoio e la sussidiarietà che a partire dal concetto comune ormai anche ai laici comune anche ai laici della dottrina sociale della chiesa si configura come principi ordinatori della solidarietà medesima e poi prosegue nello spiegare questi due principi per dire l'idea di federalismo che lui ha in testa che non era quello corrente del dibattito parlamentare un federalismo serio un federalismo che si basa sul principio della solidarietà della cooperazione e della sussidiarietà e quindi dava anche come dire spessore culturale al dibattito su temi di questo genere un'altra poi è bello perché ci sono vari interventi perché ci sono tanti provvedimenti riguardo alla partecipazione italiana ai piani internazionali di cooperazione o di convenzioni con la banca di sviluppo mondiale la europea e compaglia bella e qui è uno di questi temi è dove siamo il 28 settembre del 98 quindi era la sua seconda legislatura relatore Giovanni Bianchi sono il senso e i contenuti del provvedimento alla fase politica direi addirittura storica in corso le tragedie di alcuni paesi e continenti segnatamente quello africano che è ovvero di tornare sempre giustamente scosso da rivolgimenti biblici e l'altissimo tasso di sangue e di dolore e la stessa vigilia dell'esame della legge finanziaria a rendere urgente l'approvazione di questi disegni di legge che prevedono la partecipazione dell'Italia alla ricostruzione delle risorse dei fondi di sviluppo e dei paesi cosiddetti via di sviluppo con una dicitura me lo lasse dire che insomma il tempo e le cose della politica va bene mi rendo conto che fuori dal contesto di quella discussione riferire i brani di questi interventi ha poco senso perché insomma non produce l'effetto che invece produceva lì e poi c'è una grande legge su l'abolizione del debito anche dei paesi via di sviluppo e qui lui fa una parte fondamentale parla in un senso epocale del provvedimento di discussione dico ciò senza fare scialo di iperboli poiché mi pare impossibile portare la direzione e la portata senza dare uno sguardo a questo secolo che sta tramontando ogni bambino siamo nel 1900 noi siamo nel 2000 oggi ogni bambino che nasce in uno dei paesi più poveri del mondo ha un debito di 360 dollari verso i paesi più ricchi o istituzioni finanziarie internazionali anziché andare a scuola o usufruire di assistenza sanitaria o ancora soddisfare i propri bisogni primari questo bambino dovrà vedere l'economia del proprio paese soffocare sotto il peso del debito e sostanzialmente esorta il governo italiano ad assumere una decisione che sia pilota anche per gli altri paesi ma esorta il governo italiano anche ad assumere un'iniziativa nei confronti dell'Europa perché sia l'Europa intera a giocare un ruolo di protagonismo in questo disegno di abolizione del debito a livello mondiale del debito dei paesi poveri guardate ormai il tempo non lo consente ma voglio dire questo era un dossier molto impegnativo molto dedicato diciamo in un'ottica e in una dinamica intraparlamentale un dossier di questo genere è affidato a un ex ministro del tesoro o a un ex ministro degli esteri l'ha gestito lui che non aveva esperienze governative di questo genere questo per dire come è importante e poi fra i diversi disegni di legge proposte di legge che lui ha avanzato mi limito a segnalarne una che secondo me è la più importante anche se non è andata in porto io allora ero segretario del partito popolare e mi ha chiesto ricordo ancora di essere il secondo firmatario perché volevo in un qualche modo che era quello della to-in-tax che è la span-tax per evitare appunto perché c'erano stati dei rilievi sappiamo di cosa parliamo insomma per cui si diceva che la to-in-tax colpisse anche le transazioni buone e quindi non è giusto e allora c'è stata questa correzione della span che si chiama span-tax perché è un altro oltre to-in-tax c'era anche quest'altro che era un altro premio Nobel dell'economia che aveva introdotto queste differenziazioni ma devo dire che all'interno del gruppo siamo nel 2001 nel gruppo parlamentare non c'era il consenso e lui chiese a me perché ero segretario di firmare perché si ritenera che un'operazione di questo genere fosse un'operazione politicamente dannosa dal punto di vista elettorale è molto discutibile tant'è che non è andata in poste insomma è molto discutibile però lui arriva a coraggio e questa cosa vuole portarla avanti anche qua tra i falli delle citazioni dalla relazione per quanto ci siamo in altri quanti siamo qua due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci quattornici quattornici vuol dire che non sono tanti i parlamentari che l'hanno sottoscritta ma insomma la relazione era scritta lui è inutile che non ci freggiamo di dire abbiamo scritto in un'altra sede potevano dire ho contribuito a scrivere questa e l'altra no la scritta lui ed è una relazione molto bella ed è una relazione verso cui secondo me insomma è assieme al tema non solo alla relazione di Giovanni Bianchi si possono fare ricerca anche oggi si possono fare delle tese adesso io non voglio intervenire perché è proprio è una qualità piuttosto elevata ecco del dibattito parlamentare allora mi rendo conto di avervi detto niente sulla richiesta del professor Gioiello insomma di parlare del parlamentare Giovanni Bianchi ma insomma ho voluto solo dirvi che lui era impegnatissimo era proprio con questo atteggiamento di servizio sempre di dedizione totale ecco di dedizione totale e di come dire responsabilità di approfondimento di ricerca perché insomma le posizioni che sosteneva non fossero mai banali come non sono mai state banali nella politica più in generale è assolto questa funzione che ho cercato di dirvi all'inizio di un ideatore di paesaggi nuovi e in questo senso è riuscito anche a ottenere dei risultati avversari grazie io spero che con questo primo appuntamento abbiamo contribuito a delineare alcuni aspetti della personalità e del pensiero di Giovanni Bianchi come vi ho detto all'inizio è nostra intenzione continuare nella ricerca oltretutto i materiali di cui adesso ha parlato Castagnetti saranno strumenti essenziali anche per ciò che riguarda prospettive del centro studi di problemi internazionali e ne ringrazio per la presenza lì troverete una bibliografia come ho detto assolutamente parziale cercheremo man mano di arricchirla anche se abbastanza ricca poi abbiamo messo naturalmente alcune schede per se volete lasciare dei dati così man mano rimanderemo riferimenti materiali al cespi alcuni dei testi indicati nella bibliografia sono al cespi quindi se qualcuno è interessato sarete acconti con favore naturalmente ringraziandovi nuovamente del applausi Grazie.